Era un test importante per l'Arezzo quello contro il Leprato perché si giocava contro una squadra di pari categoria, le due formazioni si riaffronteranno anche in campionato il 18 ottobre e il 28 febbraio poi al lungo Bisenzio. Insomma Capuano aveva bisogno di testare la squadra a pochi giorni dall'inizio del campionato e ha avuto risposte in chiaroscuro. Gli Amaranto hanno vinto per 2 a 1 la partita ma nel primo tempo hanno faticato a proporre gioco, a proporre quella qualità di palleggio che invece aveva contraddistinto le ultime uscite. A parte una conclusione di Bentancur dopo 20 minuti nel primo tempo gli Amaranto hanno faticato a proporre gioco e il Leprato invece schierato con il 4-3-1-2 ha trovato in un paio di circostanze la porta e la profondità con un certo pericolo. Il gol di Serrotti è stato annullato ma poco dopo il Leprato ha segnato il gol al termine della bella iniziativa di Gabbianelli e poi il destro incrociato di Benedetti che non ha dato scampo a Baiocco. La reazione Amaranto ha fruttato un tiro di Sperotto deviato dalla portiera in corner e poi un'occasione di vinci non concretizzata proprio allo scadere. Un po' meglio le cose sono andate nella ripresa quando ci sono state molte sostituzioni, sono entrati anche i Bebi pugliesi in mezzo al campo Eceria sull'esterno di destra. L'Arezzo ha alzato un po' il ritmo, ha trovato il gol con Cori al minuto 18 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Cori è stato molto bravo tutto solo all'altezza del secondo palo a metterla in fondo al sacco e poi proprio all'ultimo secondo su una ficcante ripartenza. Defendi è partito sul filo del fuorigioco approfittando di una disposizione errata della difesa del Prato e è arrivato a tu per tu con il portiere. Lo ha saltato con facilità e ha messo la palla in fondo al sacco. Insomma 2 a 1 per l'Arezzo. Bene il risultato che dà fiducia a una settimana dal campionato. Qualche cosa da rivedere sul piano del gioco soprattutto in mezzo al campo dove l'Arezzo deve fare passi avanti per dare più consistenza alla sua qualità che quest'anno è davvero notevole.